Ieri il Dante D in tutta Italia ha tante iniziative anche nella nostra regione ma in concreto in che cosa consiste che cosa rappresenta questa giornata? Qualcuno ha parlato di giornata identitaria e credo che sia pur nello scherzo una cosa su cui riflettere perché credo che ogni nazione ogni popolazione ogni civiltà si debba cementare in un simbolo in un poeta in uno scrittore in un personaggio che abbia rappresentato molto per quella civiltà per quella nazione per quella popolazione. Nel nostro caso è Dante come può essere Shakespeare per l'Inghilterra come può essere Goethe per la Germania e così via e quindi credo che sia soprattutto questa la funzione di un giorno come il Dante D, quella di poter riflettere sul nostro passato approfittando però di un grande poeta e di un grande capolavoro e quindi di Dante e della commedia. In alcune iniziative alle quali lei ha partecipato spesso ha affermato che Dante è uno di noi perché cosa intende? Intendo dire e lo dice in realtà Dante stesso che ha composto un poema a cui ha messo mano cielo e terra intendo dire che fosse il poeta più alto e più pop insieme che la nostra letteratura abbia avuto. Proprio ieri sono stato il presidente di una giuria che ha selezionato elaborati anche multimediali prodotti da studenti tutta Italia, sono rimasto allibito, letteralmente allibito per la varietà di sollecitazioni a cui hanno risposto gli studenti che evidentemente molto più di noi comprendono che Dante è attuale, attualissimo, parla di cose universali non solo ma anche nelle rappresentazioni quotidiane di spaccati di vita del medioevo riesce ancora a essere estremamente vicino a noi. Questo si intende quando si dice, lo dico spesso, che Dante è uno di noi proprio perché ha la capacità di parlare il linguaggio più alto possibile, quello della teologia o quello della filosofia ma anche di entrare un po' nelle nostre aspettative quotidiane perché in molti casi ne vogliamo da grandi poeti, da grandi letterati, da grandi scrittori, da grandi studiosi che parlino un po' la nostra lingua, altrimenti rimangono nei loro mondi. In parte già me l'ho anticipato ma quanto è importante quindi conoscere Dante ma soprattutto quale valore aggiunto Dante può dare ai giovani, alle persone anche nella vita di oggi, nel concreto? Intanto le grandi capacità che ha avuto per esempio di inventarsi nuove parole, tra summanar, ieri una parola che è uscita più volte nelle conferenze a cui ho partecipato, oppure immillarsi per dire moltiplicare di mille in mille fino a raggiungere una cifra esorbitante e quindi è stato un grande creativo e anche solo per questo potrebbe essere utile per tanti giovani, per tante nuove generazioni per conservare un contatto con quel grande personaggio che è stato e poi ci sono altri aspetti che possono essere legati anche al modo in cui ha affrontato concretamente la vita senza sconti, nemmeno a se stesso, con l'esilio, quindi fedeltà ai suoi ideali, fedeltà ai suoi intenti, capacità di dire no in molti casi quando si fosse trattato di scendere a compromessi, quindi grande capacità anche di rimanere fedele a se stesso. Viviamo in un mondo che appare abbastanza confuso e soprattutto quello che stiamo vivendo ora in questa fase di pandemia ci restituisce una realtà in cui la socialità, le relazioni sociali si stanno ancor più perdendo. Dante che cosa ci può suggerire, come ci può aiutare? Ci può aiutare per esempio non solo per quel che si crede in genere, una buona lettura, siamo più o meno tutti ancora semi reclusi in casa e non sappiamo talvolta cosa succederà domani, non è solo questo, è l'idea proprio di un'esperienza totale, immergersi nella commedia vuol dire vivere se la si assapora fino in fondo, un'esperienza totale anche proprio nelle minuzie, perché Dante ha avuto la grande capacità di sollecitare tutte le nostre corde di lettori anche a secoli di distanza, quindi se noi riscopriamo un po' dall'interno la commedia, la commedia ci spinge proprio ad approfondire qualcosa sulla nostra stessa vita quando leggiamo passi significativi, non solo quelli più famosi, anche quelli che apparentemente potrebbero essere meno interessanti per noi.